Gli stati generali per l'ambiente quest'anno dal 12 al 14 giugno alla Mostra d'Oltremare. Si tratta di convegni di alto spessore, formazione per i professionisti e per le imprese. Premi, spettacoli, un nuovo modo di pensare e diffondere la sostenibilità per un sud sempre più verde. Quest'anno facciamo un salto di qualità perché la scelta di svolgere alla Mostra d'Oltremare, dopo gli anni che si sono svolte nella stazione marittima, indica un impegno organizzativo ma anche un'aspettativa maggiore di partecipazione. Vi saranno le presenze delle istituzioni ma anche di tante aziende. Cercheremo di dare qualche prova concreta di che cos'è l'economia circolare con dei micro processi produttivi sul posto che riguardano alcune categorie merceologiche. Non diciamo tutto, sennò perdiamo la sorpresa. E poi vogliamo rivolgerci molto ai ragazzi, faremo una competizione tra le scuole di cui daremo notizie nelle prossime settimane. Abbiamo condiviso il progetto, l'approccio e il fatto che questa non sarà solo una manifestazione commerciale ma sarà un evento a tutto tondo come realizziamo a Rimini annualmente.